Localizzare la casa di comunità negli spazi del Delta 7 dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila è una scelta in palese contraddizione con le finalità per cui nascono queste strutture. Finalità oltretutto messe in nero su bianco da specifici dettami ministeriali. È una presa di posizione chiara quella di l'Aquila coraggiosa esposta durante una conferenza stampa convocata non a caso proprio all'ingresso dell'Ospedale San Salvatore e che si aggancia anche a una iniziativa di tipo amministrativo. Sul progetto della casa di comunità al San Salvatore infatti i consiglieri comunali di l'Aquila coraggiosa Simona Giannangeli e Lorenzo Rotellini hanno predisposto e depositato una specifica interrogazione rivolta al sindaco Pierluigi Biondi. Abbiamo depositato un'interrogazione in Consiglio Comunale proprio per capire che cosa sta accadendo perché si è scelto di mettere la casa di comunità all'interno del Delta 7 dell'ospedale anche perché il Consiglio Comunale e la cittadinanza non è stata coinvolta in questa scelta scelerata da parte dell'ASL, del sindaco e della regione perché una cosa abbiamo capito durante la pandemia e quindi dal Covid è che la sanità non può essere localizzata tutta all'interno dell'ospedale ma dobbiamo tornare a una sanità territoriale. Invece qui penso unico caso in Italia scegliamo di posizionare una casa di comunità all'interno di un ospedale. Se questo è un escamotage per risistemare il Delta 7 allora noi non ci stiamo anche perché questi ricordiamoci che sono soldi che ci invia la comunità europea noi dovremmo rendicontare quindi non possiamo permetterci di fare dei lavori e poi magari rischiare di perdere questi finanziamenti. Anche per questo scriveremo una lettera al prefetto che è garante appunto di come vengono spesi i soldi del PNRR per chiedere spiegazioni qualora il sindaco o anche il presidente della regione non risponderanno alla nostra interrogazione, alle nostre domande. Il tema della localizzazione della casa di comunità Aquilana al San Salvatore è in verità solo la punta dell'iceberg. In aggancio infatti ci sono da dirimere anche altre questioni come ad esempio il personale, il rapporto tra la casa di comunità, i servizi territoriali già esistenti e anche i nuclei di cure primarie, strutture queste ultime che all'Aquila sono tra l'altro a rischio smantellamento. La decisione di mettere eventualmente la casa di comunità all'interno del Delta 7, uno degli edifici del San Salvatore, è una decisione che preoccupa e ci fa anche riflettere. Ci fa riflettere sul fatto che il sindaco Autorità Sanitaria Locale insieme alla ASL ha ritenuto di non coinvolgere né il Consiglio Comunale, né la popolazione, né le articolazioni territoriali quali consultori, centri di salute mentale, centri di riabilitazione per decidere la collocazione di una casa di comunità. Quindi noi ci opponiamo e continueremo ad opporci a questa visione che ha una visione evidentemente ispirata da criteri economici, di risparmio economico e non si può fare risparmio sulla salute che, voglio ricordare, è ancora in questo Paese un diritto costituzionale.